Il razzismo e la violenza del colonialismo fascista ha 80 anni dalla proclamazione dell'Impero Italiano d'Etiopia, i nuovi assetti europei nel XX secolo e i temi legati al lavoro, ambiente e sicurezza dal dopoguerra a oggi sono gli argomenti delle tre tracce della 36esima edizione del progetto di storia contemporanea bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Studenti e insegnanti possono iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito internet del Consiglio Regionale del Piemonte entro il 16 novembre.